E tu? Come hai vissuto il lockdown? Ti sei sentito più... oppure quante volte ti è uscito all'avviso? Stai giocando da molto tempo? Ti è capitato di controllare quanto tempo sei stato al cellulare? E allora? Come hai passato il tuo tempo sul web? Come ti senti quando vai a dormire? Confuso? Tranquillo? Arrabbiato? Agitato? Distanza fisica sì, ma non sul web. Visita le nostre pagine social. Dedicaci un minuto per dirci la tua. Ciao!